Un pulcinella d'artista accoglierà per tutte le feste di Natale napoletani e turisti al maschio angioino. Realizzato dal maestro pastoraio Giuseppe Ercolano, secondo la tradizione delle figure presepiali, il lavoro è anche un omaggio all'usanza napoletana del caffè sospeso. Una formula per cercare di sposare la bellezza ad un significato. A me piace rappresentare la città di Napoli attraverso la figura simbolo, quindi con la maschera di pulcinella e ho voluto evidenziare quello che fondamentalmente rappresenta anche la generosità di Napoli. Il pulcinella del caffè sospeso resterà esposto nel cortile del maschio angioino tutti i giorni fino al prossimo 10 gennaio. Bellissima idea che il nostro maestro presepista Ercolano ha deciso di realizzare, riassumendo attraverso la maschera di pulcinella, che è questo contenitore in cui tutte le metamorfosi della città, le sue trasformazioni, il suo immaginario, la sua vita e quindi anche la sua generosità in qualche modo si plasmano e si attualizzano, di raffigurare questa bellissima, nobilissima tradizione ormai possiamo dire del caffè sospeso. Si fa molta discussione di questi tempi sul tema dell'immagine e dell'immaginario, però io credo che poi noi dobbiamo in qualche modo sempre lavorare perché in questa costante lotta che c'è a Napoli tra degrado e bellezza, in qualche modo la rappresentazione della bellezza, dell'animo dei nostri concittadini possa trovare il giusto rilievo.